Giovanotto, Giovanotto, è strano ma non so che farci, ha appena telefonato uno dice che vuole parlare col mio ultimo cliente, l'ultimo è lei. Sì, signor Cullen, o preferisce che la chiami agente speciale, Cullen? Ha sbagliato, non sono io. Telefono pubblico tra Ocean Walk e Sunset, a tre minuti e, signor Cullen, so cosa significa quella G. È per me. Sono qui. Con chi parlo? Mi chiamo Eugene Kielson. Non credo di aver avuto il piacere. Infatti. Chi diavolo è? Qualcuno che non conosce solo il suo nome e indirizzo. So molte cose. Oltre al nome della persona che mi ha incaricato di appurare tutto su di lei. Sam, Kenzie, ho ricevuto un messaggio di Cullen. È al telefono pubblico all'incrocio tra Ocean Walk e Sunset. Inizio a tracciare la chiamata. Adesso. Ok, a bocco. Che cosa sa? Ho molte informazioni che dovrebbero interessarle. Tipo? Sono disposto a fornirle le informazioni in cambio di un piccolo favore. Come può sapere cose che io non so? Ho accesso a dati di cui lei ignora l'esistenza. Temo non abbia fatto la domanda giusta. Non parlo solo del suo nome e della sua famiglia. Lei continua a cercare di scoprire chi è realmente. Forse invece dovrebbe cercare di scoprire il perché. Che tipo di favore? Ah, quello che chiamava è riattaccata. Ancora cinque secondi e avrei triangolato la posizione. Sapeva che lo stavi localizzando. Complimenti. C'è gente che gioca a dama, ma noi giochiamo a scacchi, vero? Dice di avere informazioni. Lo dimostri. Sotto il telefono troverà una busta gialla. L'apra. È sufficiente come dimostrazione, signor Cullen? Signor Cullen. Come ne è entrato in possesso? Decida se è disposto a farmi quel favore o no. Mi dica che dovrei fare. Quella chiavetta USB. Va consegnata dai miei clienti, dai signori bulgari. Dentro la busta troverà scritto dove. Consegnerà la chiavetta e loro in cambio dovranno darle dei contanti. Chi dovrei essere per i bulgari? Me. Dovrò parlare bulgari? No, parlano la nostra lingua. Ma l'avverto. Se non riuscissi a convincere quei gentili signori che lei è davvero Eugene Kielson, credo che non esiterebbero a ucciderla. Vuol cambiare idea? Ci sono già passato. Lei sta provando a incastrarmi. Se sono arrivato a lei, quanto crede che mi ci vorrebbe ad arrivare al resto della sua squadra? Posso pregiudicare l'intera NCIS. Se non vuole scoprire fino a che punto, faccia quello che ho detto. Dove porto i soldi fatto lo scambio? Io lo farò sapere. L'appuntamento con i bulgari è fra 30 minuti. Si metta in contatto con qualcuno e l'affare salta. Provi a decrittare il contenuto della chiavetta USB e l'affare salta. Chi è stato? Se vuole sapere tutta la verità sul suo conto, ne ha l'occasione. Ha capito bene? Sì. Dovrà sembrare un tipo sveglio per cui via quel ridicolo perdetto.